E' stato un pomeriggio di festa all'Auditorium San Francesco di Chiavari con la musica tradizionale del Levante Ligure della Lunigiana del gruppo I Tre Folchettieri e soprattutto con le tradizionali premiazioni dell'Associazione Culturale Castello di Chiavari. E' un momento per noi di grande soddisfazione perché ci rapportiamo un po' con la città e con questi premiati che gratificano questa giornata. Giulia Geri e Ilaria Tornaboni hanno vinto il premio Castello per la tesi su conoscenze e salvaguardia della storia del Tigullio. Jonathan Di Bella ha ricevuto il premio Umberto di Varola per la tesi di laurea sul tema valorizzazione e conservazione del patrimonio storico architettonico. Un lavoro scritto prima della pandemia e che finalmente ha potuto essere presentato alla cittadinanza. E' stata una tesi di architettura sull'Auditorium di San Francesco e sono molto contento che mi dia finalmente l'opportunità di presentare questa tesi alla città. Adriano Cascio si è giudicato la dodicesima edizione del concorso fotografico a tema libero. Per me è la prima volta che ricevo un premio qui a Chiavari e la foto tra le altre cose è stata proprio scattata qui a Chiavari e quindi si chiude un bel cerchio. Giovanna Picceri è la prima classificata del 32esimo premio Chiavari per le fotografie a tema fisso. Ovviamente sono molto contenta perché è un premio bellissimo quello del Castello e ringrazio tutti coloro che hanno giudicato così la mia foto. Chen Wen è la vincitrice del quarto premio per l'illustrazione. Ho fatto questa illustrazione, non la sapevo, per vincere. Sono stata un po' soddisfatta, rimasta contenta. Per me è il terzo anno che ho il piacere di partecipare e classificarmi in questo concorso di illustrazione.